Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Uno sguardo agli appuntamenti in città oggi pomeriggio alle 17.00 è in programma una manifestazione in piazza dell'Esquilino promossa dall'associazione Non Una Di Meno in occasione della giornata internazionale per l'aborto libero e sicuro. All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 100 persone con possibili ralentamenti per la viabilità della zona. In serata invece al Circo Massimo il concerto di Renato Zero. Dalle 17.00 le prime chiusure al traffico su Via dei Cerchi e su Via del Circo Massimo. Dalle 17.00 sempre le deviazioni per il trasporto pubblico. I dettagli su romamobilità.it